Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, lunedì 1 aprile, si inizia una nuova settimana, si inizia anche un nuovo mese, un mese che ci porterà alle elezioni amministrative della fine di maggio, dunque un mese caldo, un mese importante dal punto di vista politico come vedremo, ma è il mese anche della Pasqua. Vediamo il santo di oggi, oggi è San Melitone di Sardi, il sole è sorto alle 6.51 e tramonterà alle 19.33, ma è anche Sant'Ugo, San Gilberto per esempio, quindi auguri a tutti coloro che portano questi nuovi. Allora, vediamo il tempo, dicevo, andiamo a vedere il tempo per oggi, lunedì 1 aprile, avremo cielo sereno poco nuvoloso, transito di nuvole alte nella seconda parte della giornata, le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi. Per la giornata di martedì un po' di pioggia nell'entroterra, però poi insomma per il resto della regione direi che il tempo si manterrà sereno, soleggiato o comunque poco nuvoloso. Le precipitazioni interesseranno soltanto con brevi piovaschi le zone montane, soprattutto nel pomeriggio. Probabile peggioramento però delle condizioni del tempo dalla giornata di mercoledì, con probabile persistenza di condizioni instabili per il resto di questa settimana. Dunque da mercoledì potrebbe tornare il brutto tempo, la pioggia che tanto serve però ai nostri contadini, ai nostri agricoltori, quindi per non dover penare durante l'estate va bene così ce ne fosse ancora di pioggia in previsione. Intanto vi comunico che abbiamo solo il Corriere Adriatico questa mattina, abbiamo già scritto la nostra bella mail letterina all'ufficio abbonamenti del resto del Carlino, sperando che risolvano questo problema con gli accessi, con il PDF, non è un problema che dipende da noi, è una questione che riguarda la gestione delle credenziali della società Monarnif, una roba del genere net del resto del Carlino. Vabbè comunque abbiamo il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro che comincia e apre con la plastic free, ovvero la scuola senza la plastica. Abbiamo visto in queste ore la notizia che arriva da Portocervo di quel capodoglio spiaggiato e che dentro la pancia aveva 20 kg, più di 20 kg di plastica. Ecco, e allora si deve cominciare in attesa, soprattutto anticipare, in attesa del cambio epocale, del divieto che scatterà tra qualche anno, quindi verrà eliminata del tutto la plastica, perlomeno quella usa e getta. Un patto per l'ambiente, servono più controlli per la differenziata nelle scuole, una scuola libera dalla plastica, borraccia 15.000 studenti, questo è un progetto che riguarda la città di Pesaro. A centro pagina la VL che rompe il digiuno e dunque riparte con una vittoria importantissima avvenuta contro la Vellino, una partita che era tutta in salita ma che nel finale ha avuto un epilogo dolcissimo. Alla fine il risultato 91-89, la squadra di Boniccioli torna al successo dopo sette sconfitte. Poi sull'ospedale di Muraglia la variante arriva in aula, il Consiglio Comunale di Pesaro è ormai arrivato ai saluti di fine mandato, una seduta entro i prossimi dieci giorni per approvare il bilancio consultivo, poi ci si ritroverà con i nuovi consiglieri comunali verso la fine di giugno. Prima però c'è da superare una fase importante che darà un indirizzo chiave sul futuro urbanistico, viario e sanitario della città di Pesaro, la variante urbanistica per realizzare il nuovo ospedale di Muraglia. L'operazione che verrà illustrata oggi pomeriggio in Consiglio Comunale dall'assessore Rito Briglia ha già compiuto l'iter nel settimo quartiere con parere favorevole alla variante. Ma la prescrizione legata al timore dell'aumento esponenziale di traffico chiedendo la predisposizione di un piano di viabilità. Nel quartiere ma in Consiglio Comunale praticamente sono preoccupati anche della viabilità, ma non solo a Pesaro sono preoccupati della viabilità anche a Fano. Il calcio, sempre per quanto riguarda chiaramente l'ospedale di Pesaro, il calcio della solidarietà sorride a poste italiane, vedremo tra un istante la nazionale cantante in cassa sette gol, ma ne segna praticamente tre. E poi nuova protesta dei lavoratori pica, oggi il blocco della viabilità. Lo sport con la Moto2 in argentino, bis di Baldassarri che prende il largo e vispesero e Fano, invece calcio, non brillano altri due pareggi. La nazionale cantanti, questa è la pagina di Fano del Corriere Adriatico. Goleada, la nazionale, ma vince il fine della solidarietà. Poste italiane si affermano per sette a tre, incassati 19 mila euro, destinati a banca del gratuito e contro l'autismo. Dunque queste sono alcune delle fotografie. La fotografia è per la formazione della nazionale cantanti, dove chiaramente aveva più tifo perché c'erano anche volti abbastanza noti, come il Biondo, che almeno si dice sì, Biondo, il rapper romano protagonista di Amici di Maria De Filippi, che si è giudicato la gran parte dei selfie degli adolescenti. Poi c'era Paolo Belli, reduce dalla prima puntata di Ballando con le stelle, giunto poco prima dell'alba di ieri proprio da Roma a Fano. E poi Neri Marco Rerri, Coruggeri, Marco Masini, nelle vesti di commissario tecnico e il ballerino Raimondo Todaro, anche lui reduce da Ballando. Insomma, tanti volti che appaiono in televisione e che dunque si dicono volti noti. Argine del Foglio invece, un chilometro di detriti e rifiuti. Il team del centro operativo ripulisce le rive da Via Caboto fino al ponte di Soria, mentre sulla bonifica dell'ex Amga ci sono 300 mila euro, scaduti i termini per la presentazione del progetto con la Tuscia. E ancora, il blocco del traffico, dicevamo, alla Pica. I lavoratori della Pica da venerdì sono in sciopero, hanno già manifestato, ve ne abbiamo parlato nel telegiornale di venerdì. Per oggi è in programma un'altra iniziativa simbolica. Abbiamo chiesto, dicono i lavoratori, l'autorizzazione per fare un passaggio nella strada e bloccare il traffico, anche se per soltanto per pochi minuti, giusto per dare un segnale sulla situazione dei lavori. Ci sarà anche la Digos, quindi la polizia, a controllare tutto. Intanto il comune di Pesaro venerdì ha inviato al ministro Luigi Di Maio la lettera da parte del sindaco Matteo Ricci per aprire un tavolo nazionale sulla crisi della Pica dopo la comunicazione della Terral che ai sindacati giovedì sera era arrivata come un fulmine c'è il sereno della chiusura dello stabilimento locale, quello appunto di Pesaro. Le notizie di cronaca sul Corriere Adriatico con il soccorso di un anziano caduto dalla sedia della terrazza, stava prendendo in via Bertozzini intorno alle 19, si stava godendo gli ultimi raggi di sole sulla terrazza di casa quando ha perso l'equilibrio ed è scivolato a terra senza riuscire a rialzarsi. La vicina lo ha visto e ha dato l'allarme, l'anziano è stato salvato come appunto detto dai pompieri. Poi ci sono tutti i particolari che chiaramente potete leggere sul giornale di questa mattina. Scontro tra due auto invece, ieri intorno alle 20 in via Lombroso all'altezza delle palazzine dell'Ail, una ha capottato, il conducente è stato liberato dalle lamiere e finisce l'ospedale. Il traffico a quell'ora è andato in tilta, così come potrete leggere tutti i particolari di un natante, piccolo natante, una piccola barchetta che al porto di Pesaro è andata a fuoco. Dalla Valle Foglie invece si parla del centro per le famiglie, quello che è stato inaugurato poco a Natale, dove nasce la rete delle mamme, spazio per i bambini da 0 a 6 anni. Bottazzo dice vogliamo il tavolo della comunità educante. E poi dalla pagina di Urbino Gianfranco Fidrigucci, per tutti Frank, ex consigliere comunale del PD, che ha deciso per Gambini basta frammentazioni, l'ex PD sceglie il progetto già in corso d'opera dell'attuale sindaco ducale. E poi sotto da Fermignano invece la soddisfazione di questo ragazzo, Andrea Codignoli, che frequenta il quarto anno del corso Manutenzione e Assistenza Tecnica, che parteciperà alle fasi finali a Torino dal 4 al 6 aprile prossimi delle Olimpiadi di Italiano. È l'unico della provincia selezionato per la gara. Contributi, e siamo sulla pagina di Fano del Corriere, contributi. C'è un precedente, il Movimento 5 Stelle, mascarin, ora si dimetta. Fontana rilancia le parole usate sette anni fa dall'assessore contro la cucuzza. Lui dice sono cose inconsistenti. Il responsabile dei servizi educativi ha lavorato all'Arci, ma sensibile è il rinnovo. Poi lesioni cutanee, aiutiamo i malati cronici marchigiani. Andiamo adesso sulla pagina dello sport, con la Samb che va a ralenti, il ritorno di immagini non sveglia il rosso-blu, solo un pari. Per la VL è la riscossa contro Avellino, una rimonta che vale una fetta di salvezza. Poi si parla della Anconitana che vince all'eccellenza, dunque, è ad un passo. Andiamo ancora sulle pagine dello sport per andare soprattutto a vedere le due pagine della provincia di Pesaro e Urbino che ci interessano. La Vis che pareggia in casa contro Ravenna 0-0. Un altro pareggio, la vittoria di Albenelli, manca dal lontano dicembre scorso. I biancorossi restano tre punti sopra la zona play-out, solo un gol nelle ultime nove partite. Che peccato, dicono appunto da Pesaro, mentre Fano ha pareggiato 0-0, indenni a Rimini. Ora il recupero con la fermana, fondamentale nella corsa per la salvezza. L'Alma spesso in imbarazzo di fronte agli attacchi dei romagnoli, decisive, le parate di Sarra. E comunque è uno 0-0, un punto che, insomma, non smuove molto la classifica, ma che perlomeno forse smuoverà un po' il morale, nella speranza che i Granata possano, con uno scatto d'orgoglio, riprendere la marcia in queste ultime partite e risalire la china. Noi ci fermiamo qua. La rassegna stampa è terminata. Vi ricordo che stasera alle 20.30 abbiamo il telegiornale, con tutte le notizie del giorno. Poi avremo Primo Cittadino, avremo di nuovo l'edizione di mezzasera e la partita di Serie A2, l'ultima della regular season del Potenza Picena, che ha giocato all'Eurosuole di Civitanova Marche. Grazie per essere stati con noi. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.